Scontri fisici e tensione alle stelle. Questo è il clima che si vive nelle aule della politica locale. Dopo la rissa in Campidoglio a Roma, ieri la bagar si è scatenata nei consigli regionali di Piemonte e Umbria. A Torino i toni si sono accesi quando è entrato in aula il leghista Roberto Cota, presidente della regione. Cota risulta indagato dalla procura di Torino insieme a 42 consiglieri, quasi tutti in quota PDL e Lega, per l'utilizzo smudato dei rimborsi e spese. Le ipotesi di reato vanno dal peculato alla truffa al finanziamento illecito dei partiti. E proprio l'inchiesta è stata l'argomento che ha incendiato la discussione. Cota ha parlato di una campagna diffamatoria nei confronti della regione. L'ex presidente è candidata sconfitta da Cota nel 2010, Mercedes Espresso, invece anche lei indagata per finanziamento illecito ha interrotto il governatore sostenendo che tutta la maggioranza adesso dovrebbe fare un passo indietro. I capigruppo di Fratelli d'Italia e PD, Franco Maria Botta e Aldo Reschigna hanno lasciato i rispettivi banchi e si sono avvicinati l'uno all'altro, poi insulti, urla e spintoni. Botta e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, che era intervenuto per dividere i due consiglieri, sono finiti a terra. La seduta è stata sospesa. Scena simile con momenti di tensione anche al Consiglio regionale Umbro. Il capogruppo della Lega ha rovesciato una scatola piena di interrogazioni di cui da tempo il suo gruppo chiedeva conto e che fino a quel momento erano state ignorate dalla giunta. Uno degli assessori ha reagito con insulti e grida si è sfiorata la rissa. Tre giorni fa in Capidoglio invece la lite tra consiglieri sul bilancio della Capitale era costata al sindaco Ignazio Marino una gomitata in testa.